A Urbino l'Università premia il ministro Lamorgese con il sigillo d'Ateneo, una occasione anche per firmare un innovativo protocollo in chiave antimafia. Pierpaolo Rivalta. Sono onorata di avere questo riconoscimento e tra l'altro io ho vissuto in questa regione e quindi mi ha un po' riportato alla memoria il mio vissuto familiare, personale. Ci sono anche ricordi marchigiani che riemergono nella visita urbinata del ministro Lamorgese. L'Università le assegna il sigillo d'Ateneo nello spirito di un percorso comune tra legalità e cultura necessario ad un paese che si fonda su giustizia, coesione e sviluppo. Il rettore Vilberto Stocchi ha ricordato la carriera nelle istituzioni di Luciana Lamorgese, prefetto nel 2003, incariche a Venezia e Milano, capo di gabinetto del Ministero dell'Interno dal 2013 al 2017, consigliere di Stato nel 2018 e ministro dell'Interno dal settembre 2019. Ma il sigillo riconosce anche la sua capacità di dialogo e tutela e la vicinanza ai giovani e all'università. Al termine della cerimonia c'è anche la firma di un protocollo tra prefetture e università di Urbino, iniziativa pilota per tutto il territorio nazionale e gli altri Atenei, così da rispondere all'insidia del momento. Si fanno delle informative antimafia, anche sotto soglia, proprio perché il momento è delicato e noi dobbiamo stare attenti a che in questo periodo in cui lo Stato, il Governo ha dato risorse per cercare di affrontare il momento difficile, non ci siano elementi della criminalità organizzata che poi si inseriscono nel circuito legale di queste risorse.